Il frigo è piano, 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 che si casca, si rovina. Che piano, mamma mia, tempo a perdere. Dai, dai, metti su. Andiamo con il mio vieto adesso, via. No, 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 a casa. Parti su piano, piano, e si striscia, e si fa piano, si striscia. Ma non importa se si striscia, io stesso. Sì, ti ho detto, moglie, dopo la te compa. Mia moglie, sei contenta, io non la vedeva allora. Dai, dai, andiamo con la poltrona, dai. Aspetta, aspetta, aspetta che ha perduto, ha perduto. Aspetta, 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 aspetta. Meglio, meglio, sempre a perdere, meglio. Basta, che ho finito. Finito. Finito, posso? Oh, non ho capito perché abbiamo scaricato tutto qua, comunque. Aspetta, dopo tutta questa fatica, oh, ti butterà ancora da beve, dopo che ti entri in Casanova. Ma che Casanova? Come è Casanova? Scusa, non siamo andati a fare il trasloco. Ma che trasloco? Ah, ora che te non ti sta mica bene. Ma chi sei che va mai parlare del trasloco? Ma scusa? È il frigo, è il mobile, è la poltrona. Ti ha detto? Dammi la mano. E non ti è neanche data? A spostarmi a casa da tutti questi mobili vecchi, no? Ma ti sei disgraziato? Ma bisogna essere proprio degli incivili per muovere la roba così messa in strada. Scusa, diciamo la via Veritas e ti ha portato via ora. Oppure stessa fatica che abbiamo fatto a portarla qua, daimo all'ecocentro, ora che si è anche al cartello, e ti ha portato via ora e daimo a posto. Quando abbandoni, fai la stessa fatica che faresti per portare gli ingombranti nell'ecocentro del tuo comune. Inoltre, se ti beccano gli ispettori ambientali di Veritas o i vigili, ti prendi la multa. Ti conviene? Se invece chiami il servizio a domicilio, non fai nemmeno questa fatica. E quindi? Porta i tuoi rifiuti ingombranti nell'ecocentro del tuo comune, secondo le modalità previste, giorni e orari, che trovi nel sito gruppoveritas.it oppure prendi appuntamento per il ritiro a domicilio al numero verde gratuito 800 811 333. Allora! Ti hai ragione, bisogna avere responsabilità verso l'ambiente, verso la città. Ricarichiamo tutto? Eh? Anzi, ti fa un piacere, ti puoi ricaricarti, perché bisogna che vada a casa che mi arrivi i mobili nuovi. Eh? Papiano, che si strissa! E allora? E allora? We're here! Also, come parla! Iniziamo! E allora? Habitare quello che ci stanno fare? Poviare quello che ci stanno fare? Si. E allora? E allora? E allora? Grazie a tutti.